buonasera o mamma ragazzi purtroppo iniziamo questa live con una notizia tristissima è morta tina tarner mi hanno scritto che è morta tina tarner povera vediamo sì martiu buonasera il primo buonasera devo inventare un regalo per il primo che mette un messaggio in una live è morta tina tarner davvero di ipac devo iniziare questa diretta con una tristezza proprio povera ciao furio ciao giacomo davvero poverina mi spiace allora vabbè insomma la sua età si esatto riptina povera iniziamo questa live con una tristezza una notizia un po triste vabbè dai diciamo che il problema è che quando muore un artista muore sempre una parte del mondo questo qua è il problema principale perché voglio dire poi aveva la sua età non è stata sicuramente una disgrazia di una persona giovane c'è c'è molto di peggio c'è di molto peggio scusate però quando muore un artista se ne va una fetta di mondo non c'è niente da fare che piacciono o che non piacciono è un vero peccato ciao ragazzi ciao manini ciao furio ciao peter ciao roberto ciao cristiano casaretto ciao tarantola official come state dai allora ieri questo logic è uscito un po tardi federico buonasera e volevo fare il video ovviamente che farò è perché lo faccio il video questa settimana la prossima settimana bisogna fare un po di musica però la sua musica sarà sempre molto viva e vedi questa qui è la cosa molto bella no furio di quando di quando muore un artista che chiaramente viene a mancare una parte però rimane rimane tutta la sua arte e quindi è un così è un modo per rimanere nella storia no un modo per lasciare comunque un segno indelebile di se stessi guardate che che è una cosa è una cosa pazzesca non so quale altra cosa possa pari pareggiare una una grandiosità del genere veramente no un po un po proprio come si dice noi gli artisti sono un po degli dei no quindi hanno questa immortalità che li segue che poi per carità è come dire è un bene ed è un male no pensate alle alle famiglie io penso sempre a questa cosa pensate alle famiglie quando viene a mancare una persona così che ce l'hanno davanti tutti i giorni praticamente chissà chissà good vibes buonasera chi ci ha lasciato tona tina tarner good vibes ci ha lasciato ne stavamo parlando appunto adesso anche io ho ricevuto un messaggio cinque minuti fa proprio di questa cosa proprio cinque minuti prima di iniziare questa diretta qui che vabbè così è così un po almeno mi fate un po compagnia soprattutto sono qua messina sono in albergo ho mangiato una pizza con una diarretta ho detto dai stasera visto che ho dietro l'ipad ci ho giocato un po oggi ci ho giocato un po sull'aereo è stato divertente perché vabbè comunque sapete la nostra nerditudine ti piace l'idea di un premio per il primo che saluta e infatti devo inventarmela devo inventare una fat boy buonasera william mccliano cosa ne penso del nuovo update logic 10.7.8 che non c'è nessuna novità è un aggiornamento è un aggiornamento tecnico soprattutto per per il discorso dell'ipad per la compatibilità con l'ipad per il resto vabbè c'è questa c'è questa funzione di tenere premuto il tasto control e non ti vengono caricati i plug in audio unit però boh c'era già una mezza cosa così c'era già anche prima non lo so bene onestamente l'hanno annunciato come una grande figata ma secondo me è una roba boh si magari se c'è qualche plugin che dai numeri però se non ci sono problemi per plugin scusate che danno delle problematiche non la vedo questa grande tanto i plug in che non hai comunque non te li carica quindi però va bene sarà utile diciamo che è infatti alla fine vedete gli artisti sono immortali non c'è niente da fare c'è un'immortalità per quello che vengono tante volte paragonate a degli dei no perché così sono perché per un motivo per un altro scusate che ho un cavo ok per un motivo per un altro rimangono immortali hai ragione mark tube beh mi piace questa cosa che stasera si parla anche un po di questa roba qui private dancer un album pop semplice è un grande disco io quando ho iniziato la mia carriera da musicista nel 85 più o meno 84 85 c'era un singolo di tina tarner che era bellissimo in quel periodo lì che non mi ricordo non mi ricordo come sentitola però valentina aggiornamento se 17 8 dicevo prima niente di che aggiornamento tecnico per la compatibilità con ipad quindi niente di straordinario hanno messo la possibilità si hanno messo la possibilità di mettere il comando da tastiera anche per il gain tool ho visto questa roba qua che si possono avviare i progetti senza gli audio unit niente di che aggiornamento tecnico l'arte è il cibo di una società civile è certo sono d'accordo di ipac assolutamente si purtroppo tina si prive di essere un album perfetto sono d'accordo assolutamente ma furio mi ricordo male o quel brano lì è di bruce princeton princeton forse dico una stupidata però questo recondito mi mi si è acceso questo pensiero nel cervello no è di mark noffler oddio è di o è di mark noffler o è di bruce princeton private dancer prova provate a informarvi mi è venuto questo pensiero che ne so stai testando logic su ipad pro con chip m1 gira molto bene eh sì di pac assolutamente gira veramente benissimo chi è che l'ha provato ditemi sai come esportare un midi includendo le modifiche dei velocity process una buona serata cosa sono le modifiche dei velocity process proud mary è proud mary grande versione io oggi ho riaperto logic su un progetto molto pesante e a differenza della versione 177 girava molto meglio tutto più fluido ah william quello sicuramente cioè nel senso gli aggiornamenti tecnici servono ben per questo per fare in modo che il software diventi più fluido quindi sono d'accordo io l'ho installato oggi non l'ho ancora utilizzato praticamente oggi avevo l'ipad con il quale giocare però gli aggiornamenti tecnici per queste cose sono super utili massimo nastasio cosa ne penso dell'ambiente musicale nel messinese hai avuto modo di avere qualche riscontro guarda non più di tanto se non ovviamente con i miei allievi i miei allievi tanti sono di messina non tutti però in tanti sono di messina e devo dire che c'è della gente molto brava c'è un bel fermento poi dopo mi dicono che ci sia poco lavoro che sia una città un po' un po' morta da questo punto di vista io guardate dico così io vengo da questo punto di vista da una delle peggiori città del mondo che è Cremona anche se poi alla fine è come si dice ci sono un sacco di musicisti bravissimi che lavorano con tutti famosi anche alcuni molto famosi e ha come me l'altra parte insomma ci sono un sacco di musicisti bravi anche se la città è totalmente morta da un punto di vista musicale anzi con più ci rimani a Cremona con più muori quindi è veramente un non Cremona come Cremona quei posti lì governati da quel provincialismo molto molto brutto proprio e non lo so messina ovviamente non la conosco così bene quindi non ti so dire il secondo anno che vengo ma non la vivo fondamentalmente vivo il conservatorio l'hotel e quando esco a cena però non la vivo da quel punto di vista lì quindi non ti so dire però a sentire un po' le parole dei ragazzi mi da l'impressione che ci sia un po' quel mood qua no? appunto come vedo anche a Cremona e con più questi qua con più ci rimangono con più ci muoiono dentro perché poi diventano diventano così tra virgolette famosi no? A Cremona sono famosi e quindi gli fanno l'articolo sulla provincia quindi hai capito la nonna la zia vedono l'articolo però ti fa morire quella roba qua perché invece poi prendi il casello dell'autostrada esci a Castelvetro Piacentino e non sei più nessuno quindi queste città sono delle tombe per l'arte veramente sicuramente hanno fatto degli improvement di ottimizzazione dicono sia quello sicuramente William sicuramente private answer di Mark Knopfler ecco vedi che qualcosa mi è venuto quando mi avete detto questo nome mi è come dire mi è uscito questo pensiero infatti sì Mark Knopfler parlo di M1 cosa? ah ok per l'ottimizzazione sì beh sicuramente staranno tutti un pochino adesso lavorando sul fatto di silicon adesso speriamo che lavorino anche un po' sull'iPad perché l'iPad è veramente una piattaforma totalmente diversa oggi ne parlavo con un caro amico collega di questa cosa che non possiamo ragionare con l'iPad come ragioniamo con il computer perché altrimenti siamo fuori strada è inutile dire ma l'iPad sostituisce il computer non è quello lo scopo non è quello che deve succedere deve succedere che l'iPad prende una vita propria e quindi i punti forti che ha rispetto al computer devono venire a galla quindi tutto il software si deve muovere in funzione di quello perché altrimenti se all'iPad devo mettere una tastiera il mouse e un monitor allora vado avanti con il computer chi se ne frega dell'iPad l'iPad deve essere un supporto vincente per com'è io questo penso non me ne frega niente di avere il complete sull'iPad perché sull'iPad il discorso è totalmente diverso quindi non mi interessa non mi interessa quasi manco attaccarci la tastiera per il momento però perché vedete in molti ragionano così quindi la domanda che ti viene fatta è allora con l'iPad posso sostituire il computer e ho capito non è quello il discorso non è quello il discorso perché poi stiamo parlando comunque di spendere praticamente la stessa cifra allora prendo un portatile comunque perché non c'è ancora paragone è un'altra cosa insomma deve essere un'altra cosa e così va affrontato anche l'approccio secondo me e comunque è fighissimo Paolo Lusardi è veramente figo vengo dalla città degli utai leggendari è verissimo Dipak sì è proprio vero ce ne sono ancora tanti degli utai a Cremona tanti tanti ci sono tantissime gli uterie ma più che fra gli utai e banche c'è la città piena sotto gli 8000 forse la canzone di Tina a cui si riferiva a cui mi riferivo allora quella che faceva è è beautiful era stupenda non me lo ricordo come si intitolava ciao Marco da raccontaci di logic sono accorso specialmente per il discorso plugin di terze parti ecco vedi wonder qui ti volevo cioè qui vi volevo non deve essere quello il discorso i plugin di terze parti per adesso non ci sono sì c'è il Moog cioè ci sono i plugin di terze parti però bisogna ragionare in un altro modo i plugin di terze parti le aziende di terze parti non si sono ancora mosse per lavorare per l'iPad cioè un plugin utilizzato su un computer è una cosa un plugin utilizzato sull'iPad è totalmente un'altra quindi va customizzato per lui deve nascere per lui la figata di logic è che è nato in questa versione è nata per l'iPad e quindi ha tutte le caratteristiche vincenti non devi pretendere di mettere gli Spitfire adesso sull'iPad non è quello allora andiamo avanti con i computer capito wonder ne stavo parlando appunto prima forse la domanda l'hai fatta prima di tutto il discorso che ho appena fatto però bisogna veramente staccarsi dal metodo tradizionale del lavoro ciao Gipo buonasera però se devo essere sincero macbook air m1 900 euro tutta la vita esatto ipad os ancora limitato quindi bene sono due cose diverse quindi se devo pensare a come lavoro con il computer allora vado avanti con il computer anch'io eh ragazzi cioè anch'io sono qui con il portatile però vi dico ho collegato l'iPad con il cavo vede subito l'iPad posso farvi vedere il display dell'iPad posso spostarmi con la trackpad andare a muovere cioè è pazzesco sono avanti 100.000 anni questi qua che se ne dica ciao Paul Giuseppe mi riferivo al velocity processor l'effetto di logic con la sua curva mi dico ah ok 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 guarda ho fatto un video ho fatto un video Giuseppe su questa cosa su come esportare le robe del dei midi fakes vai a cercarlo sì perché un iPad con due tera di SSD costa più di un MacBook Pro esatto sì ma infatti io ho preso il 256 eh cioè chi se ne frega typical mail bravo Cristiano era questa era questa grandissimo pezzo mi divertivo tantissimo suonarlo con le frasi dei fiati me le ricordo ancora bravo bravo D-Pack bravo Cristiano è lei è lei beh com'è logic su iPad le automazioni con la pen eh vabbè le automazioni con la penna ovviamente sono sono comodissime chiaramente adesso io non ho ancora scaricato tutta la sound library le automazioni con la penna sono pazzesche buonasera Max Brescia buonasera Salvatore Dr. Moonset lo freddo l'uso dell'iPad è solo per avere una cosa per tirare giù un'idea al volo credo è un GarageBand ampliato no beh è molto di più di un GarageBand ampliato ecco l'unica roba che non c'è è lo score editor non lo so se lo integreranno se lo integreranno o se non lo metteranno per il discorso che ho appena fatto oltretutto quindi se non deve essere una roba d'iPad si l'aveva fatta prima la domanda però mi chiedo se non vanno i plugin cosa ci posso fare non è che non vanno i plugin ci sono altri plugin non so c'è il Moog ci sono i plugin della Korg ce ne sono tantissimi di strumenti che poi il logic vede quindi ce ne sono tanti wonder però non è non sono quelli tradizionali quindi bisogna un po' uscire dall'ottica di plugin so che ci sono i fabfilter c'è della roba eh c'è c'è però bisogna uscire un po' dal concetto del computer è veramente molto diverso mi ricordo il pacchetto della Korg per iPad e la webstation esatto l'M1, Poly6 molto bello più dei plugin esatto fat boy quelli per capirci logic su Mac la macchina grossa per i viaggi logge sui pali secondo utilitarie in casa per per gli spostamenti si esatto si completa una vicenda Giacomo Melchiorri ci ha giocato un po' e per ora lo vedo come un garage band sotto steroidi ciao Marco per caso sai se su logi con iPad secondo te sarà possibile assieme a Loop Cloud non lo so il Poly6 di core per iPad è meraviglioso si ma se per lo stesso progetto sia su Mac su iPad contemporaneamente in rete wifi lavorare sullo stesso progetto allora lavorare insieme non lo so perché secondo me non ha molto senso me l'hanno già fatta ancora questa domanda cioè se ho davanti il computer ragazzi uso il computer non c'è niente da fare poi dopo l'iPad probabilmente si amplia con altri tipi di sonorità un po' più spostati dai dai che ve lo faccio vedere vediamo mettiamo in pratica tutta la mia tecnologia del momento ta ta eccolo qua questa qui è la prima pagina iniziale ah beh vi dico subito una cosa ragazzi indispensabile la Pencil c'è la Pencil 2 dovete assolutamente cioè consideratela perché non altrimenti non ma in generale per l'iPad ho visto comunque cioè è indispensabile però vedete che io con la trackpad dal mio computer mi sposto guardate sono sull'iPad fighissima questa roba qua beh immaginatevi che questa qui sia la Pencil ovviamente e questa è più o meno così la ecco quello capirei se l'iPad per ora non era scontato per me ah no no Wonderman infatti no ma perché guarda ma questa cosa è una cosa che è uscita già diverse volte cioè bisogna un attimino cambiare cioè bisogna cambiare totalmente modo è come dire il chitarrista con l'amplificatore e quello con il camper cioè non è che devi devi avere la stessa roba sono due mondi totalmente diversi e vanno trattati nel modo diverso un'ipotesi futura per me suonare dal vivo con l'iPad i miei strumenti virtuali sarebbe fighissimo sì sì furio assolutamente probabilmente la parte loop è sicuramente più comoda con il touch l'iPad può tornare molto utile nei viaggi dove poi vado eh sull'iPad deve essere una figata il plugin dell'Arturia ah del Firelight non li ho ancora guardati quelle dell'Arturia ciao i PM abbiamo appena abbiamo chiacchierato un po' purtroppo sulla morte di Tina Turner povera mi dispiace eeeh Artura non ha ancora fatto nulla Terence scusami furio Terence buonasera Terence ragazzi mettete il like eh mi raccomando non dimenticatevi che è importantissimo mettete il like al video allora vabbè eeeh vi faccio vedere questo puntino bianco che vedete è come se fosse la pencil ovviamente questa qui è già la mia autolote che mi sono fatto eeeh e niente o velocemente poi dopo vi ripeto vi faccio un video specifico eh questa settimana sul canale dove approfondisco un po' tutto e così stasera era solo così per fare due chiacchiere fra di noi fra di noi nerd questa qui è la pagina che ci si presenta vedete ho iniziato a scaricare un po' di cose non le ho ancora scaricate tutte eeeh in pratica abbiamo tutta la prima parte che sono una una sorta di tutorial gigantesco una sorta di corso di lezioni vedete di lezioni per l'utilizzo interessante magari lo farò il corso sul sul logic per l'ipad dopo di che c'è allora all'inizio quando lo aprite la prima volta ti chiede se vuoi scaricare la prima libreria di base e poi ehm e si carica si scarica mi sembra tipo 300 mega di roba e poi dopo in questa pagina invece avete tutte le altre possibilità quindi avete i corsi oppure questa qui è tutta la library che c'è a disposizione per il momento e c'è un sacco di roba ve lo garantisco vedete da batterie synth poi ci sono gli artist packs come come sempre loro sapete che ci tengono adesso comunque ve li faccio vedere un pochino più nel dettaglio ehm i drummer e i kit e poi appunto essential incompatibili packs quindi questi tre sono gli essential che ti fa scaricare e poi c'è chiaramente anche la libreria di garage band che è compatibile ehm ragazzi voi fate pure le domande poi dopo vengo vengo a rispondere adesso intanto vi spiego un pochino questa cosa quindi eh dicevamo tutte le volte che aprite la finestra di un sound pack vi vi descrivo un pochino quello che c'è all'interno cosa c'è dentro vedete qua per esempio ci sono dei patch delle patch di basso di alchemy ci sono dei kit del drum machine vedete che eh è tutta roba tendenzialmente orientata comunque un po' verso determinate cose no determinati generi c'è dentro un po' di tutto eh ah poi mi hanno fatto scaricare gli studio strings e gli studio e gli studio horn e quelli ci sono ehm anche i pacchetti dedicati agli artisti hanno anche loro degli apple loop machine designer 50 samples 10 keyboard patches un live loop che poi dopo vi trovate dopo vi faccio vedere dove e qui potete vedere appunto tutta la libreria che c'è per il momento tutti i pacchetti dedicati agli artisti e ai produttori tutti i pacchetti dedicati agli strumenti vedete step sequencer kits vintage synth ci dentro un po' vede studio strings e studio horns cinematic synth vintage mellotron ci dentro un po' di tutto e sono tutte le cose immagino comunque derivate chiaramente da logic e poi abbiamo tutti i drummer anche da scaricare eccoli qua il percussionist rock drummers ah questo qui l'ho scaricato prima perché c'è dentro vedete pop rock retro rock hard rock punk rock socal avete presente quelli che ci sono quelli che abbiamo già anche in logic comunque in logic sul computer e qui abbiamo tutti i drummer anche electronic drummer pian piano li sto scaricando non li ho ancora scaricati tutti e poi in fondo abbiamo appunto i tre pacchetti essential che ti fa scaricare e la roba di garage band e una volta che avete fatto tutto ciò potete decidere appunto come iniziare il vostro progetto e qua inizia appunto la costruzione del progetto la cosa interessante è che pur essendo comunque ovviamente tra virgolette ridotto anche se non so bene dove sia la riduzione in pratica anche lui c'ha molte cose ragazzi assomiglia molto a garage band ma credetemi che non c'entra molto è veramente molto molto diverso ha un po' tutto quello che c'ha logic no? quindi guardate per esempio anche i settings vedete sono interessanti per dire oggi ho provato a collegare non so se avete visto ho messo una story su instagram ho provato a collegare in conservatorio ho la mia piccola la mia piccolina l'arturia la vede subito funziona tutto cioè è fantastico insomma e niente quindi ha veramente un po' tutto quello che c'ha logic chiaramente gli manca lo scoredito e poi bisogna vedere dove ci sono i limiti no? per esempio a me chiaramente vengono in mente i comandi a tastiera per esempio per la velocità di lavoro e i comandi da tastiera non ci sono ripeto se ci devo mettere una tastiera allora tanto vale che utilizzo un computer comunque anche qua guardate il mixer vedete quindi qua vado con gli audio instrument con gli audio fx scusatemi oltretutto ce n'è uno nuovo interessante nei multi effect che è il beat maker una roba un po' strana poi ve lo faccio vedere quando faccio il video approfondisco questo qua abbiamo gli instrument vedete tutti i suoi e poi gli audio unit quei 3 o 4 che per il momento io ho installato quindi drums drum key designer drum synth drum machine designer c'è tutto dai gli studio instrument e questo qua il mixer poi c'è vi faccio vedere aspettate che voglio caricare un preset no non questo volevo caricare un midi eccolo qua interessante è la cosa dei guardate degli smart control vedete gli effetti gli effetti li fa vedere così no piccolini come delle preview con dei controlli essenziali se poi cliccate due volte sopra il nome ecco che apre invece la pagina completa degli effetti questo qui è interessante tape delay l'electric piano questo è super figo e questo qua sono gli smart poi c'è vabbè ovviamente c'è il piano roll questo c'è è tutto a posto tutto nella norma come siamo già abituati ad utilizzare ovviamente tenete conto che io adesso sto utilizzando il mouse praticamente sto utilizzando la track la trackpad del computer quindi risulta veramente molto molto comodo e quindi vedete dai c'è un sacco di roba lui è bello è bello pronto anche se utilizzo la penna non è bello pronto non è così impiantato ad andare ecco va veramente bene va molto bene poi dopo dipende un pochino anche da voi aspettate che torno un attimino col faccione così rispondo un po' di domande se ci sono è interessante poi ditemi anche voi se l'avete provato perché mi incuriosisce molto è bello fluido è proprio bello bello fluido certo adesso poi figuratevi utilizzarlo con il mouse è una figata pazzesca cioè è comodissimo vedete logic su ipad farà un botto nei concerti assicuro buonasera marco a tutti grazie sempre grazie mille a te grazie mille a te di essere qua con me anche stasera alessio a marco uscito il voca strip dellssl 16 euro con lo sconto invece di 100 prendilo prendilo alessio beh sono belli i premi dellssl giovanni ferrari ciao marco come funzionano i cuffie ad alta impendenza con ipad conosci doc che possono completare il pacchetto logic ipad si guarda di doc te ne faccio vedere uno subito che ce l'ho qua allora perché tenete conto che i doc bisogna un attimino provarli perché il problema è quando si attaccano perché per esempio io ne ho a casa due o tre di doc e ce n'è uno che funziona tutto il midi funziona cioè la tastierina funziona funziona tutto ma la scheda audio per esempio no invece questo qua si questo qua funziona tutto c'ha 4 usb 2 usb 2 2 usb 3 c'ha la porta per la ricarica 2 hdmi vabbè le due schedine che io non uso mai e poi questo qui l'ho preso perché c'ha anche la presettina per le cuffie che trovo che sia molto comoda e poi c'ha il solito dvi e la spina di rete ma se trovate ho già messo il link da qualche parte di questo di questo al limite se mi scrivi via mail te lo mando ti mando il link oppure ce ne sono anche di molto più belli di doc quelli più grossi però per una situazione portatile come per me deve essere una situazione portatile quindi non ho ben capito anzi vi chiedo questa cosa non ho ben capito perché non mi apre i file che salvo su dropbox non me li apre nei soft cioè se ho un file di page di pages salvato su dropbox non me lo apre su pages me lo lascia su dropbox e quindi non posso intervenire questa qui è una grande scomodità non so come mai probabilmente sbaglio qualcosa io assomiglia molto a garage band però abbiamo visto che è un po' un'altra cosa mi dispiace un casino averti salutato il guitar show oh Luke ma mi spiace molto anche a me mi avete salutato in tantissimi eravate tantissimi ragazzi tantissimi con il libro a farselo autografare che bella cosa mi avete dato una grandissima soddisfazione leggo mug e prima ho visto un grandmother stilizzato è come credo si si c'è il mug ce l'ho anch'io il mug aspetta che ti faccio vedere tata cioè sono organizzatissimo avete visto ragazzi allora qui c'è il il model d eccolo qua eccolo dove sono andato a finire eccolo qua il mouse eccolo hai visto hai visto wonder questo vi farà felice c'è il model d è molto bello è il model d della mug prendetelo se siete interessati perché è veramente molto molto bello allora quanto costa l'ipad il logic su ipad costa 50 euro all'anno è un abbonamento samuele mari ciao marco grazie ancora per il saluto mi hai fatto un sacco piacere incontrarti samuele tantissimo anche a me mi ha fatto un sacco piacere incontrarvi esatto 5 euro al mese o 50 euro all'anno buonasera le offender mug ha fatto mini mug e il model 15 a 1v3 fichissimi si sono molto belli pensi che controlli esterni tipo beringer x touch logica ripalli veda e non lo so non te lo so dire non te lo so dire bisognerebbe provare anzi se ce l'hai che provi fammi sapere hai visto wonder molto bello ma c'è molta roba bella wonder per ipad è molta molta c'è il modular della corg che è un bellissimo synth c'è piano tech tra parentesi piano tech lo si utilizza con la licenza te lo danno con la licenza che hai già fa vedere non ho ancora provato ad aprirlo no aspetta eh non c'ho ancora sulla mano eh fino a quando vado con il mouse sono pratico ah eccolo qua aspetta che vi faccio vedere anche a voi il piano tech se ce l'avete eccolo qua ehm ve lo danno con la licenza vostra eccolo io però volevo aprirlo devo prenderci su un po' la mano eh eccolo qua sì sì con la licenza che avete per il computer vi danno anche quello sull'ipad questo è molto interessante sì ciao Marco mi spiega la differenza tra una uv3 e di plugin che si trovano sul desktop è che niente è semplicemente un diverso formato niente di che Gianluca è un diverso formato che uno lo vede l'ipad e uno lo vede il computer bib mania buonasera ciao Marco non mi aspettavo di trovarti online una bella sapere ti ascolto un grande piacere conclusione di una giornata lavorativa faticosa buona musica a tutti in tutte le forme possibili grazie mille bib mania l'abbonamento vale solo per i pad giusto? eh boh chi lo sa non lo so guarda è difficile poter poter capire cosa succederà diciamo che diciamo che come si sta vedendo un po' in giro l'orientamento è questo qua quindi mi sa che fra un po' abbiamo tutti in abbonamento se andiamo avanti così allora ragazzi però anche qui possiamo parlarne ehm l'ho già detto anche con la questione delle waves non sono così drammi io li odio gli abbonamenti odiosi però se facciamo il conto razionalmente ci togliamo un po' dalla questione di possedere un plugin che poi cosa possiedi un programma che se domani non va più che non te lo rinnovano più lo butti via cioè quindi ehm non è così stupida come cosa quella dell'abbonamento soprattutto per le cose anche che puoi utilizzare a periodi no? ehm ci sono delle cose io lo dico sempre faccio sempre l'esempio di Word Word lo uso due volte all'anno quando mi serve il mio abbono costa 7 euro ciao scusate bevo un goccio d'acqua ecco io ho Model D, Anymoo, Synth One, Flextron, Therimin, Anymoo e Mod... e madonna quanta roba che c'hai aspetta che faccio una foto così me li compro anch'io ha 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 devo sentirmi vecchio preferi che allungo un monitorone, un tastirona e un mouseone anziché un ipadone ma no ma figurati ma figurati non è questione di sentirsi vecchi cosa vuoi mai? guarda cioè siamo onesti è tranquillamente inutile per il momento cioè molto probabilmente è un passaggio naturale non è questa gran rivoluzione è semplicemente un passaggio naturale in fondo in fondo in tutto e per tutto stanno diventando sempre più dei computer questo qui c'è sull'M2 cioè quindi c'è viaggia come un treno ah poi non vi ho fatto vedere un'altra cosa aspettate che vi faccio vedere un'altra cosa che che è fighissima mi sono dimenticato che c'ha la tastiera qua sotto adesso non lo so se mi sentite dovrebbe avere condiviso anche l'audio si sente? aspettate che metto su le cuffie e poi oltre alla tastiera però c'è anche la possibilità di avere i pad guardate è fighissimo poi c'è la possibilità di avere la tastiera stile chitarra poi gli accordi come quello che ha l'ipad no? questo è molto figo devo dire questo è molto interessante e insomma dai un po' di chicchettine ce le ha dai eh si sente si sente bene guardate questo software qui per fare le dirette è fantastico comunque si ha un potenziale enorme sono d'accordo sono d'accordo inutile che io penso che la faccenda wave abbia insegnato qualcosa ma vedremo si io ho un ipad air 3 consiglio aspettare di avere più stabilità con gli aggiornamenti e porti dei vari plugin ma guarda che già lui di di suo ci possiamo fare i dischi eh ragazzi cioè sia chiaro sia ben chiaro questo cioè già lui di per sé c'ha dentro un sacco di roba è molto bella quindi anch'io degli abbonamenti ma uso title per i mesi che mi servono così è una creativa giorno d'estate esatto le offende io d'oggi stavo esplorando l'esperienza sarà come integrazione di macbook per live loops e controller in genere che mi pare ah come live loops sarà sicuramente molto più comodo io ti dico la verità non ho ancora provato eh cioè eh bisogna cambiare il concetto alla base inutile non possiamo ragionare come se fosse logic sul computer perché sennò facciamo la fine di quelli che dicono era meglio logic 9 insomma cioè è tutto un'altra cosa e sono d'accordo con Deepak che questo logic ha un potenziale enorme se posso dire qualcosa sul tema Waves ho comprato nel tempo almeno 100 plugin di Waves ed ora ho fatto l'abbonamento conclusione conviene e tanto sono usciti due plugin soprattutto già e infatti si assolutamente conviene alla grandissima fare l'abbonamento Waves ma come tutti gli abbonamenti e anche quello plugin Allianz conviene cioè se facciamo i conti ehm se facciamo i conti sulla carta gli abbonamenti convengono se penso a tutti i soldi che ho speso io ho dei plugin ma ciao altro che abbonamenti si si buonasera Vincenzo Saverio ciao Marco un saluto a tutti su chat logic pro x italia ciao Saverio grazie mille un grande saluto anche a te posso chiederti cosa usi per fare le dirette uso ecam live questo software pazzesco ragazzi è un è praticamente un OBS figo ecco a pagamento però non c'è paragone è fighissimo veramente spaziale oggi vi ripeto oggi volevo appunto ho intenzione di fare questa live e ho detto ma chissà se vedrà l'ipad ho attaccato l'ipad con il cavo boom subito me l'ha dato me l'ha dato avete visto come oggetto da poter prendere spostare allargare stringere posso fare veramente quello che voglio si sente l'audio cioè è incredibile che il software usi per la diretta si potrebbe usare anche una per condividere insieme su mix no quello no è un'altra roba però sono dovuto tornare indietro sull'abbonamento come soluzione unica interessa quello avere la scelta sì sì ma guarda ma intanto loro alla fine alla fine ci guadagnano cioè volete andare avanti a comprare i plugin andate avanti a comprarli ve li rimettiamo in vendita ciao comprateli vi arrangiate poi dopo dovete aggiornarli tutte le volte a meno che non ne hai pochi se ne hai pochi sì Alessia e Marco se cambio pc posso passare i plugin dall'altro certo ovvio Omnisphere e Siro su iPad faranno il botto secondo me anche Diva sì senz'altro arriveranno arriveranno poi figurati Omnisphere Spectrasonica quelle robe qua è attentissima arriveranno alla grande mi hanno parlato molto bene del Korg Modeler si chiama mi sembra quello è molto bello eh eh allora Gianluca dice che i suoi preferiti sono Mellow Sound il Mellotron davvero fedele ma soprattutto un'emolazione bestiale ah il Taluno tra parentesi anche qua c'è no c'è c'è il Mellotron il Vintage Mellotron altro sim software che suona da favore il Triton sì tutti il Korg il Korg Legacy Collection sono bellissimi ragazzi non so se ce li avete sono bellissimi ce li ho su computer sono fantastici veramente sono troppo belli prendeteli perché sono tantissima roba davvero tanta tanta roba bene avete ancora qualche domanda qualche dubbio qualche curiosità o andiamo a letto io domani mattina sei e mezza sveglia alle otto si cominciano le lezioni in conservatorio quindi sono bello attivo e cosa volevo dirvi anche ah sì che sto proseguendo con l'organizzazione dei camp a breve vi darò notizie più precise sia dei camp che delle consulenze le lezioni sto organizzandovi un po' perché sto facendo un po' fatica a sostenerle quindi eh poi farò una promozione giusta come si deve Synth Master su iPad qualcuno l'ha provato non lo so c'è già anche quello non lo sapevo ma io ho scaricato poca roba vi dico cosa ho scaricato io allora ho scaricato beh Piano Tech poi Numa Player però non è niente di eccezionale devo dire il 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 e basta per il momento adesso mi farò un banco di bi di 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 anch'io comunque alla Apple si stanno dando molto da fare per sviluppare il potenziale di Apple si si stanno dando da fare perché ma si ragazzi è ovvio che il futuro è lì anzi io avevo detto il futuro sarà sul telefono figuratevi cioè Marco qualche rumore su Tegeler il nuovo di Verbero di cosa? non lo conosco non lo conosco che reverbero è? buonasera Gaff Tongue Studio buonasera secondo te un iPad 12.9 sarebbe più comodo per Logic? beh io ho preso il 12.9 ho preso quello grande è grande ragazzi è grande ed è pesante ve lo dico subito nel guscio se mettete io l'ho messo in un guscio di questi qua neri di gomma un po' sostanzioso vabbè lo butto nello zaino e così diventa bello pesante bello pesante provate il Master Deck Pro la grafica è una fotocopia di quella BX Limited e il True Peak beh perché il mondo è quello lì il nuovo plugin della Tegeler no non lo conosco non lo conosco proprio andrò a vederlo andrò a vederlo hai fatto bene a dirmelo perché andrò a vederlo in preordine ah però fa vedere vado a vederlo subito tra parentesi ragazzi c'è anche da un punto di vista con la tastiera c'è spaventoso è veramente spaventoso l'iPad come vi mettete con il mouse io è tantissimo che non ce l'ho non lo trovo però il Tegeler plugin o Tegeler chissà come si dice vabbè da Dropbox devo scaricarlo sull'iPad è ok cioè non lo posso tenere su Dropbox questo dicevo è veramente scomoda questa roba qua sono le marino ma col tempo non sono più compatibili con i computer moderni a chi hai risposto? ah le waves bisogna tenere le aggiornate ragazzi bisogna tenere le aggiornate ogni 100 preordini regalano un hardware cream wow interessante il passare del tempo ha effetto anche sui denti la chiave è per preservarli usare i minerali è partita una è partito un video di YouTube scusate stavo cercando appunto la questione del plugin ma non lo trovavo bene ragazzi che dite? diamo a nanna uscirà K-Scape? ma sicuro secondo me guardate secondo me la roba della Spectra Sony che esce perché loro ci tengono tantissimo e sono super bravi in questa roba qua quindi sicuramente uscirà quella roba lì sicuramente ma secondo me guardate tutti faranno delle cose anche Native Instruments farà delle cose certo bisogna fare delle cose adatte per l'iPad quindi con il concetto del touch molto presente ecco best plugin per voce in che senso per la voce ci vuole una bella voce guarda un bel plugin molto comodo per le voci è il CLA della Waves molto comodo quello lì bene ragazzi grazie mille mi dispiace ancora molto diamo ancora un pensiero alla povera Tina che è venuta a mancare abbiamo una grande artista in meno da oggi però dai abbiamo ancora tutta la sua arte che ci ha lasciato anzi magari coglieremo l'occasione per andare a riascoltare un po' di cose sue meravigliose che ne ha fatte tantissime io vi ringrazio sempre per essere stati con me e noi intanto ci vediamo prestissimo ci vediamo sempre in giro oramai sono sono diventato una presenza buonanotte a tutti buonanotte buonanotte mille buonanotte grazie mille a tutti veramente hai ricevuto il libro grandissimo Filippo se dicono se dicono omnisphere che scherzi appena mi fanno tremare la carta di credito i tuoi allunni sì i miei allunni mi seguono infatti dopo mi aspettano domani mattina ciao ragazzi buonanotte a tutti grazie mille davvero siete fantastici vi abbraccio a tutti uno a uno ciao